Eccoci allo sport, cominciamo col pattinaggio, gli atleti della derby, i roller team di Ladispoli sono rientrati dal campionato italiano Maratona che si è svolto a Firenze. Ottimo risultato raggiunto, Stefano Moreschi impegnato da quest'anno nella categoria assoluta Seniores, si è laureato campione italiano, quello raggiunto è il primo titolo assoluto della società. Nella categoria Juniores invece Alessio Iacono ha conquistato una medaglia di bronzo e soprattutto la derby roller team ha chiuso la competizione quinta assoluta nella classifica per società. Complimenti davvero, chiudiamo la pagina sportiva con la box, Alberto Tabbi. Grazie a tutti.